di proseguire nel proprio impegno. Dall'esito di tali valutazioni, il Governo informerà tempestivamente il Parlamento, così come sempre avvenuto, per consentirgli di poter esercitare le prerogative di competenza. L'eventuale disponibilità del Paese a continuare la missione dovrà comunque tenere conto delle valutazioni e delle decisioni che saranno collegialmente prese in ambito Nato fin dai prossimi incontri. Solo in tale sede, infatti, sarà possibile valutare e pianificare le esigenze da soddisfare e le misure più opportune da adottare da un punto di vista operativa. E soltanto in conformità a tali valutazioni, anche l'Italia potrà meglio individuare il contributo da rendere disponibile. Ogni soluzione comunque terrà conto delle sempre prioritarie esigenze di tutela della sicurezza dei nostri uomini. Grazie, sottosegretario. Il deputato Artini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie mille, Presidente. La risposta è assolutamente non soddisfacente perché non risponde. Il sottosegretario nella fase finale della risposta non definisce quella che è l'utilità per il Paese. Ovvero, la domanda era espressamente qual è l'utilità per il Paese nel voler mantenere un altro anno la missione in Afghanistan. Il Governo ci dice che verrà valutato nelle sedi NATO di qui alla fine dell'anno. Noi scopriamo oggi che, senza nessun tipo di comunicazione, si raddoppia quasi il numero delle presenze in Afghanistan. Perché, se non ho capito male dalle parole del sottosegretario, abbiamo già inviato il numero di forze necessarie, e giustamente su questo, giustamente da un punto di vista della sicurezza dei militari che sono in Afghanistan, ma non correttamente da un punto di vista dell'informazione che già il Ministro poteva fare il 6 ottobre, perché probabilmente questa cosa era già decisa. Abbiamo inviato 530 uomini circa per fare force protection in Afghanistan e questo è praticamente raddoppiare da 730 il numero delle persone. Su questo dettaglio effettivamente il Parlamento è la prima volta che lo sa. Si sapeva, il Ministro giustamente aveva informato della necessità di valutare questa cosa. Il fatto di arrivare a sapere oggi questo punto è veramente incredibile. Incredibile anche perché nelle bozze, ed era uno dei dubbi che mi era indubbiamente che si era valutato, il costo della missione afghana era molto più elevato rispetto a quello degli ultimi nove mesi. La giustificazione che ci avevamo date era per organizzare il rientro come previsto dalla missione, a fronte di questi numeri pare per mantenere una force protection che giustamente va fatta, ma che effettivamente doveva essere non autorizzata o comunque non comunicata ex post. Si ribadisce il punto, non si sa qual è l'utilità per il Paese. La missione in Afghanistan è stata, negli ultimi dieci anni e oltre, a nostro modo di vedere, un fallimento. È un fallimento perché l'anno scorso era trionfante il fatto che si potesse fare con tranquillità l'applicazione di un concetto elaborato a tavolino che lasciasse alle forze afghane solamente tutta la parte di protezione e che da parte nostra ci fosse solo la formazione degli ufficiali. Questo era il concetto dello SFA, dello SFA concept. Fatto a tavolino, provato sul terreno, è una cosa che non ha funzionato, ma come tante altre cose pensate a tavolino nei palazzi della NATO non hanno successivamente funzionato in Afghanistan. L'Afghanistan è una situazione ancora totalmente destabilizzata e si è visto quello che sta succedendo in questi giorni. Contemporaneamente stanno infiltrandosi anche cellule e formazioni di Daesh, rendendo ancora più instabile la situazione. Io rimango effettivamente senza altre parole. Non si riesce a comprendere se il Governo ha effettivamente una visione su quello che è l'Afghanistan, su quello che è anche i giusti appunti da fare all'alleato americano. Non può essere che il nostro Paese incassa tutte le volte qualsiasi richiesta che il Governo americano avanza come un qualsiasi piacere. Lo spunto fatto, come dicevo prima in esposizione dal Governo e dal Ministro Pinotti, sul fatto di concentrare i nostri interessi su quelle che sono le aree che ci sono più vicine, prima ho citato la Libia e la Siria, ma ugualmente il Kosovo e quindi tutta la parte dei Balcani, che è una situazione che per noi è estremamente sensibile e dove la nostra presenza è tuttora importante. Quindi la domanda che ci ponevamo era qual è l'utilità e non c'è questa risposta. L'utilità, come ho detto e ripeto, il Sottosegretario ci viene indicata in una eventuale successiva riunione Nato in cui si definiranno. Quelli Stati Uniti stanno, per certi versi, ignorando o hanno ignorato negli ultimi anni quella è la situazione del Mediterraneo. Noi abbiamo appoggiato, come dicevo prima, a tutte le richieste del Governo americano, in particolare sulla parte afghana e, per contro, nessun tipo di supporto reale, se non a parole, ma reale, è stato fatto per quello che riguarda la parte libica. Infatti la missione europea, EUNAF for Med, è esclusivamente europea. Non c'è nessun tipo di supporto a quello che è stata tutta la situazione nell'area del Mediterraneo. Quindi sono estremamente insoddisfatto da questa risposta, anche se evidenzia alcune informazioni che non erano arrivate al Parlamento e questo tipo di, come dire, di dettaglio credo che debba essere valutato nel merito dell'imminente decreto missioni. Questa cosa è estremamente, glielo dico sottosegretario, imbarazzante. Perché il 6 ottobre il Ministro poteva effettivamente segnalare questo tipo di situazione, che non vuol dire c'è una recrudescenza. Questo si può parlare in maniera molto informale, ma dettagliare con precisione, perché il 6 ottobre la pianificazione per inviare entro nove giorni 500 o 300 o 200 uomini per fare force protection è abbastanza importante per il Parlamento come tipo di informazione. Grazie. Grazie. Adesso passiamo all'interpellanza urgente numero 11-13 dei deputati Bratti ed altri concernenti iniziative di competenza per il pieno e regolare l'adeguamento degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflui al fine di preservare gli ecosistemi litorali settentrionali della Campania. Chiedo alla deputata Michela Rostan se intende illustrare l'interpellanza di quel cofirmatario, sembra di sì, prego, a 15 minuti. Sì, Presidente. Aspetti un attimo che... Sì, manca il Governo. Non vedo il Governo. Sono io che non lo vedo oppure non c'è? Non c'è, confermate. Sospendo per 15 minuti la seduta. La seduta ricomincerà alle ore 11.00. Grazie.